Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il potatore a batteria Bluebird CS23-05A è stato progettato per rispondere alle esigenze di chi desidera una soluzione pratica ed efficiente per la potatura. Con un peso di soli 1,4 kg, compresa la batteria, si distingue per la leggerezza, rendendolo ideale per un uso prolungato senza affaticare il braccio. Questo modello è pensato per tagli di precisione su rami di arbusti e cespugli fino a un diametro massimo di 12,5 cm, dimostrandosi versatile e adatto a molteplici applicazioni. La lama è dotata di una pompetta manuale per la lubrificazione, posizionata in modo ergonomico, che permette una manutenzione rapida e facile, mantenendo l'attrezzo sempre efficiente e pronto all'uso. Il potatore Bluebird CS23-05A è corredato di due batterie da 14,5 volte e 2,5 Ampere ora, per una lunga autonomia e un uso continuativo senza interruzioni. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.